Vi è mai capitato di fare qualcosa di veramente speciale per il vostro partner o la vostra partner, rimanendoci male quando non avete ricevuto la reazione di gioia che vi aspettavate? E al contrario, avete mai visto la vostra partner essere esageratamente felice per un piccolo gesto che avete fatto e a cui voi non avete dato molto peso? Se vi siete trovati in simili situazioni e ne siete usciti confusi, questo video vi chiara meglio le idee. Nel video di oggi infatti recensirò il libro I 5 linguaggi dell'amore scritto dall'autore americano Gary Chapman. Questo libro si concentra sulla fase della reazione successiva a quella dell'innamoramento iniziale, in cui spesso si tende a vedere solo i pregi della nostra lei o del nostro lui senza però conoscere l'altra persona profondamente. Solo quando la relazione entra in una fase di routine spesso emergono i difetti e mancanze dell'altro, passati inosservati anche se presenti durante l'innamoramento iniziale, perché come si suol dire l'amore è cieco. Secondo Chapman ci sono 5 modi, anche chiamati linguaggi, per comunicare il nostro amore alla persona che amiamo ed ognuno di noi ha il suo preferito. Il problema principale e punto fondamentale del libro è che spesso diamo per scontato che questo coincida con quello del nostro partner, quando invece spesso non è il caso, e qui possono nascere problemi e fraintendimenti. Facendo un'analogia, pensate di parlare in italiano con qualcuno che parla solo in cinese. Molto probabilmente non vi capirebbe e venireste presto a consufarvi l'uno della compagnia dell'altro. Vediamo ora quali sono questi 5 linguaggi e come interpretarli. 1. Parole d'affermazione A chi di noi non piace ricevere un complimento? Frasi come «sei bellissima» o «sei una mamma fantastica» oppure «sei molto intelligente e bravissimo nel tuo lavoro». Non solo ci daranno un'iniezione di fiducia, ma ci fanno sentire amati ed apprezzati. Chi ama ricevere complimenti generalmente ricambia il proprio amore allo stesso modo, e nonostante a nessuno dispiace ricevere un complimento, alcune persone danno più valore ad altre dimostrazioni d'amore e queste parole non avranno lo stesso effetto su di loro come invece hanno su altre persone. Pensa un attimo, il tuo partner come reagisce ad un complimento? 2. Tempo di qualità Il secondo punto di Chapman è il tempo qualitativamente dedicato alla persona amata. Questo significa stare insieme senza distrazioni, magari col cellulare spento e semplicemente godersi la compagnia dell'altra persona. Magari facendo una passeggiata insieme, una cena romantica o una partita o un gioco di società. Due persone possono passare 24 ore al giorno insieme, ma se ognuno è preso dalle proprie attività senza dedicare un momento al partner, è come se si vivesse da soli. Se ad esempio discutete di qualcosa con vostra moglie mentre allo stesso tempo guardate la partita in televisione, significa che state dialogando solo superficialmente. Tempo di qualità è qualcosa di più di essere solo presente, significa prestare attenzione esclusiva, ascoltare sinceramente i bisogni dell'altro. 3. Ricevere regali Molte persone amano esprimere il loro amore dando e ricevendo regali. Sia chiaro, questi regali non devono essere per forza costosi, ciò che conta è il gesto ed è il tempo trascorso dalla persona a pensare al proprio amato o alla propria amata e a ciò che le sarebbe piaciuto ricevere come regalo. Il dono, da sempre, è considerato il simbolo d'amore per eccellenza, perché indica che l'altra persona pensa a noi, così come la mancanza di regali può rappresentare una carenza d'amore. 4. Atti di servizio Gli atti di servizio sono piccoli gesti come aiutare nei lavori domestici, buttare le immondizie, a preparare la cena per la nostra cara. Gesti a cui spesso noi uomini non diamo molta importanza e che non capiamo come possano anche solo comparare agli altri 4 linguaggi dell'amore in termini di importanza. Eppure è così, e per molte donne questi gesti, per quanto banali, sono molto importanti. Questo ovviamente vale anche a parti invertite, ma in generale questi piccoli gesti sono molto più importanti per le donne che per noi uomini, che spesso neanche ci accorgiamo esistano. 5. Contatto fisico Il contatto fisico è forse la forma d'amore più semplice per dimostrare il proprio amore. Sia chiaro, il contatto fisico in una relazione compende molto più che solamente sesso. Un abbraccio prolungato, una carezza o anche il semplice tenersi per mano in luogo pubblico sono modi per far ricordare all'altra persona che sei presente, sei qui per lei e non si deve sentire sola. Ora che conosciamo i 5 linguaggi dell'amore cosa possiamo fare? Innanzitutto cerchiamo di capire quale linguaggio dell'amore parliamo noi stessi. Facciamoci le seguenti domande. Cos'è che la nostra compagna o compagno non fa che ci causa più dolore? Cosa richiedi principalmente dalla tua compagna o compagno? Come esprimi amore alla tua compagna o al tuo compagno? Una volta capito il tuo linguaggio cerca di capire anche quello della tua compagna e identifica possibili divergenze. Esercitatevi poi insieme nell'utilizzo dei vari linguaggi d'amore, cercando di scoprire a quale il vostro partner reagisce maggiormente e a quale meno. Questo esercizio vi aiuterà a conoscervi meglio, rafforzerà la vostra relazione ed eviterà molti disguidi e fratendimenti in futuro. Se ti è piaciuto il video sarei grato se potessi mettere un like e condividerlo se pensi che qualche tuo amico possa trarne beneficio. Lascia inoltre un commento se vuoi condividere con la nostra community una tua esperienza a riguardo. Se vuoi vedere altri video come questi in futuro e non lo hai ancora fatto iscriviti al canale cliccando il tasto rosso sotto a destra e attiva la campanella di notifica. In questo modo verrai informato ogni volta che un nuovo video verrà caricato sul canale. Buona giornata.